Ciao broda, sei in diretta su Tele Iato Alessandro Falla Tarozzi E' un incrocio tra una bestia che è il Taro e il Manzol Ciao ragazzi, una parola per Tele Iacula Sono in merda stamattina No, è problemi guatteliani A cosa è dovuto questo dispiacere? Mi manca contarti che non c'è la carta igienica Una volta c'era Ciao a tutti, un messaggio per Tele Iacula Tele Iacula Stefano vuoi dire qualcosa ai microfoni di Tele Iacula? No, anche no No, questi fortunatamente non sono con noi perché sono già troppi oggi Per la serie non è mai troppo tardi E cosa vuoi dire? Vengono con noi Ci ha Remo in 37 Troppe Ducati Troppe Ducati, oggi la gita non la finiamo Ci vuole un cestino per raccogliere i piedi Diego, hai per caso il numero di un carro attrezzi di tua conoscenza? Ecco Ha delle ferramenti aperte sul Bresciano Bergamo Ciao, puoi dare un messaggio ai microfoni di Tele Iacula Cosa devo dire con i microfoni? Pervertiti Tele Iacula Cosa Cosa Conoscenza Cosa E' un po' di riduzione. Eccoci, sempre noi su Tele Iacula, se c'era il banana comunque era campari per tutti, campari obbligatorio, non so sta, sempre per Tele Iacula, sempre, ma sempre io, perché hai la faccia, dai Iacula, avrei potuto dire a Petro, siamo in fila per il bagno, è la prostata questo, Grazie a tutti 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 Buongiorno siamo su Tele Iacula Oggi mi sa che se riesco ad andare a casa a Iaculare è buona Vuoi salutare i parenti di giù? Ciao, ciao, ciao di ciò, grande vittoria nel mondiale Tu sei spostato, non ciò che ti dico, non ciò che ti dica, insomma, ora piantate, fa una sbagliastrada, no no, dopo manetto non stai rispetto a te, siamo sempre su Tele Iacula, abbiamo qua un clandestino appena arrivato, ci può dire... Tu sei star da dire, non ciò che ti dico, non ciò che ti doverà, ciò che ti dico, ciò che ti dico, ma io ti dico, non ti agri... decidite che noi facciamo